E ora andiamo in diretta a sentire il Ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, per il tradizionale Comitato Nazionale di Ordine e Sicurezza. ...perché ascoltassero i sensori che venivano dal territorio, che si allertassero per fare anche tavoli di confronto dedicati, per segnalare eventuali operazioni non chiare. Anche da un punto di vista normativo, come do governo, abbiamo fatto tanto perché abbiamo dato non soltanto delle risorse e anche qui la criminalità organizzata poteva avere facile accesso e quindi anche queste risorse, non soltanto quelle che sono state attribuite, i 25.000 euro a chi era in particolare difficoltà, ma anche prestiti da parte di banche con lo scudo, diciamo, da parte dello Stato, con la garanzia dello Stato. Anche su questo, per dare la possibilità di dare immediatamente le risorse necessarie con la necessaria celerità, senza tuttavia far venire meno i controlli necessari, noi abbiamo fatto anche dei protocolli di legalità con la SACE, con le agenzie delle entrate, per consentire di poter procedere rapidamente e dare un segnale ai cittadini in difficoltà di una presenza concreta dello Stato. Siamo stati impegnati, abbiamo parlato anche sul fronte delle problematiche che abbiamo in materia di immigrazione. Devo dire che i numeri non sono numeri elevatissimi, certamente sono numeri più alti dell'anno scorso, però bisogna sempre contestualizzare le situazioni, bisogna dire che oggi abbiamo una Tunisia che è in gravi crisi economico, politica, sociale e quindi noi abbiamo visto famiglie intere partire pensando di trovare delle migliori condizioni di vita sul territorio italiano. Io tengo a dire e a precisare una cosa, gli arrivi che noi abbiamo avuto, così numerosi, sono stati determinati da sbarchi autonomi e quindi difficilmente gestibili nel senso di fermarli in mezzo al mare perché erano delle piccole imbarcazioni gommoni perché davvero la Tunisia, quando siamo andati in Tunisia, siamo andati non più tardi di 20 giorni fa e adesso ci ritorneremo lunedì prossimo e poi vi dirò, devo dire che è talmente vicino che effettivamente dall'aereo tu ti rendi conto della disperazione di una parte di popolazione che non ha più niente, a cui non viene neanche più pagato lo stipendio per vivere, come decida di avventurarsi sulle nostre coste. Devo dire che il problema maggiore è non soltanto il numero, perché abbiamo detto che non sono numeri elevatissimi perché ad oggi sono circa 15.000. Il problema maggiore anche in questo caso è rappresentato dal Covid-19 perché necessita tutto un sistema di tutele per quanto riguarda le popolazioni che con difficoltà accolgono queste persone che hanno poi una volta arrivato, a cui viene praticato il tampone e laddove poi il tampone è positivo allora c'è la difficoltà di organizzare tutta l'accoglienza perché comunque quando arrivano dobbiamo fare 14 giorni di quarantena e allora per cercare di gestire in maniera ordinata un afflusso che invece è stato disordinato perché noi abbiamo avuto addirittura un giorno, io ricordo che tra un sabato e una domenica ci siamo sentiti con i colleghi purtroppo per loro almeno una decina di volte io compreso il capo della polizia qui presente, il capo del Dipartimento per l'immigrazione abbiamo avuto fino a 22 sbarchi autonomi, quindi voi comprendete bene la difficoltà di gestire una situazione in tempo Covid, una situazione di questo genere in tempo Covid e ciò ci ha determinato di fare tramite la protezione civile, far nominare soggetto attuatore il capo Dipartimento dell'immigrazione per cui poi abbiamo noleggiato due navi dove attualmente sono imbarcati per la quarantena i migranti arrivati per la maggior parte i tunisini devo dire e mi fa, lo voglio dire perché è un risultato che abbiamo raggiunto poi si potrà dire politicamente qualunque cosa, non è mai troppo, è troppo ma io non faccio un discorso di carattere politico perché io sono un ministro tecnico quindi io cerco di ragionare avulsa da quelle che sono le dinamiche locali ma soprattutto cercando di risolvere i problemi e in quello io dico sempre grazie alla squadra viminale e alla squadra qui presente con i quali lavoriamo insieme e quindi andando in Tunisia noi abbiamo raggiunto un risultato che secondo me è importante che è quello di far riniziare i rimpatri ai ritmi pre-Covid cioè vale a dire 80 rimpatri a settimana quindi abbiamo avuto la possibilità di dire ciò al Presidente della Repubblica nonché al Presidente incaricato, già Ministro dell'Interno, Micicico cui io avevo intessuto ottimi rapporti anche in precedenza e come vedete poi i rapporti personali poi giocano un ruolo importante quando si tratta poi di andare a chiedere qualcosa per il tuo Paese e quindi loro hanno anticipato nonostante anche il Covid da loro hanno voluto accogliere la nostra richiesta perché sono già ripartiti i voli coi ritmi precedenti e di questo noi siamo grati tra l'altro il Presidente della Repubblica Tunisino, Sayed il giorno, due domeniche fa, che corrispondeva al loro Natale è andato lui di persona con il suo staff e con il Presidente Micici incaricato è andato a Svax dove c'è l'imbarco da cui poi prendevano la via tutti i barchini che arrivavano non solo, ha mandato dei magistrati adesso proprio a Svax perché operino per sgominare le bande di criminali che organizzano questi viaggi per l'Italia e allora io devo dire che appena tornato dalla Tunisia immediatamente telefonai alla Commissaria Europea Johansson le raccontai di quello che avevamo fatto e le dissi anche che secondo me era importante che l'Europa si facesse carico di un problema così gravoso che poi comunque ricadeva anche sull'Italia tenete conto che noi con la Tunisia abbiamo sempre avuto un rapporto ottimo come Paese è una giovane democrazia e quindi che va supportata in tutti i modi le ho riferito questo e le ho detto sarebbe opportuno che andassimo insieme in Tunisia per dare un segnale concreto perché anche lo stesso Presidente della Repubblica Sayed aveva detto noi non l'abbiamo mai vista l'Europa e quindi diciamo ci farebbe piacere un segnale concreto noi ora lunedì 17 andiamo a Tunisia un'altra volta abbiamo organizzato una visita il Presidente della Repubblica ci ha dato la sua disponibilità e così anche il Presidente incaricato e andremo io, il Ministro Di Maio e i due commissari europei sia la Johansson che il Commissario Varel che tra l'altro è quello che ha un po' il cordone della borsa quindi diciamo è un momento importante per noi è un risultato secondo me che è di attenzione per un Paese in difficoltà quindi su questo aspetto ci tenevo a fare una comunicazione visto che poi lo leggereste comunque lunedì dai giornali quindi bene a sapere perché andiamo e per le motivazioni che sono state alla base di questa visita fatte quasi a ferragosto e quindi ringraziamo anche i commissari europei che si sono dati disponibili per quanto riguarda quelli che sono ritornando al Comitato abbiamo noi visto che abbiamo verificato quelli che sono i dati della criminalità i dati sono ovviamente meno 28% se consideriamo i reati noi facciamo sempre i raffronti tra periodi omogenei dell'anno precedente abbiamo visto che ovviamente durante i periodi di lockdown erano almeno 37% e quello era mi sembra abbastanza logico perché in quel periodo naturalmente non esistevano più quelle che erano le rapine in casa perché è ovvio eravamo tutti bloccati oggi abbiamo mandato un ringraziamento generale a tutte le forze di polizia alle forze armate a tutti coloro che hanno operato con grande difficoltà in questo periodo siamo infatti prima del Comitato abbiamo fatto un collegamento con tutte le sale operative per dare proprio il segnale di attenzione in una giornata particolare in una giornata particolare quale quella di Ferragosto e per dire che abbiamo apprezzato moltissimo il loro lavoro in situazioni difficili a me mi è arrivata una lettera di un sindacato di polizia che mi dice non dica che va tutto bene io posso dire una cosa posso dire che certamente le forze di polizia hanno operato con grande difficoltà come abbiamo avuto tante difficoltà ognuno di noi secondo il proprio livello di responsabilità su ogni dossier però abbiamo posto sicuramente tutta l'attenzione alle forze di polizia a quello che erano i loro bisogni le loro necessità ad iniziare dal capo della polizia che ha sempre un'attenzione particolare certo è un lavoro difficile e complicato reso ancora più complicato in un momento in cui l'emergenza e migrazione è stata emergenza connessa al covid ecco tengo a dirlo non parliamo di emergenza ma parliamo di problemi connessi all'immigrazione per il covid e lì abbiamo avuto molte forze di polizia impegnate anche sui controlli con grande difficoltà e di questo io voglio dare testimonianza e ringraziamento in questa sede per tutta l'attività che hanno fatto l'attività non soltanto della parte relativa ai migranti ma tutta l'attività che hanno posto in essere durante il lockdown pensate che noi abbiamo impegnato fino a circa 60.000 uomini con controlli fino a 20 milioni di persone controllate con 7 milioni di esercizi commerciali cioè io credo che davvero più di quello che è stato fatto io credo che non potesse essere previsto nient'altro certo oggi qualcuno di voi anche può darsi nelle domande e dirà ma poteva essere fatto questo o poteva essere fatto quest'altro certo io non nascondo che quando ci si trova nei momenti di crisi complicate come di vicende come questa del covid 19 ci siamo tutti trovati ad affrontare una situazione nuova nuova per tutti e quindi abbiamo cercato di porre il massimo di fare il massimo e di fare il meglio poi se qualcuno di voi mi dirà può darsi che andava fatto quello può darsi non lo so però io direi anche una cosa vorrei che io ho sempre ragionato così nella mia vita lavorativa quando devo pensare alla soluzione di un problema devo sempre vedere se io fossi dall'altra parte sarebbe la soluzione giusta mi chiederebbero qualcosa di più ecco io anche quando abbiamo fatto quello che abbiamo fatto io mi sono messa dall'altra parte evidentemente sa affrontare una situazione difficile come questa come quello che hanno affrontato anche i vertici qua sul parlo del del presidente della regione il sindaco Sala il prefetto che ha dovuto gestire su Milano anche una situazione complicata devo dire che noi ognuno ha messo a servizio degli altri la propria professionalità cercando di fare il massimo quindi sono qua a vostra disposizione se volete fare delle domande e se non le volete fare vi auguro buon ferragosto buongiorno ministro io parto subito dal tema immigrazione legato al covid che comunque è vero è un'emergenza su un'emergenza che non è una vera emergenza visti i numeri abbiamo visto insomma sono numeri abbastanza ancora contenuti considerando quello che è accaduto in passato però si scontra con la pandemia e quindi anche con una sensazione di sicurezza che va data al cittadino ora il tema dell'accoglienza di queste persone che comunque continuano a arrivare come ha detto lei la maggior parte in autonomia quindi non si possono certamente fermare davanti le coste italiane questo tema dell'accoglienza legato al covid come influirà sulla modifica dei decreti sicurezza questa è la prima domanda e la seconda domanda invece è relativa a ho visto tra le varie slide ed una slide molto interessante relativa ai reati sul web che aumentano ovviamente in periodo di pandemia e molti molti reati sono anche reati di minacce e intimidazioni nei confronti dei giornalisti il 51,3% mi sembra il 2% in aumento nell'ultimo anno 185 giornalisti minacciati come come ci si può difendere da minacce e intimidazioni su un sistema appunto come il web avete delle strategie pronte? grazie allora parto dall'inizio a proposito dell'immigrazione andiamo per ordine sì certo come dicevo prima è complicata la situazione dell'accoglienza proprio a causa del covid e proprio per questo noi abbiamo preso delle navi per non gravare sui territori e per far vivere in sicurezza sia i migranti che i i cittadini di determinate aree d'Italia noi stiamo anche cercando temporaneamente perché qua si tratta tutto questo è un'attività che noi dobbiamo limitare nel tempo che parliamo al 15 di ottobre che è la data termine per l'emergenza e quindi noi stiamo cercando anche delle strutture tipo caserme che noi da poter utilizzare anche la parte esterna da mettere con i moduli abitativi per anche i refrigerati perché visto anche il caldo di questo periodo e proprio per consentire i 14 giorni di quarantena tenete conto che per esempio sulla nave che abbiamo in rada l'azzurra noi abbiamo fatto anche dei reparti covid perché laddove ci sta qualcuno che a seguito del tampone risulta positivo e noi li mettiamo separati in modo tale da non causare poi una ulteriore propagazione del virus in tutti perché altrimenti i 14 giorni non finirebbero mai quindi stiamo cercando di operare al massimo per quanto riguarda quello che diceva lei i reati sul web devo dire in particolare per quanto riguarda i giornalisti io devo dire che ho istituito già abbiamo fatto due riunioni quello che è un osservatorio per gli atti di intimidazione nei confronti dei giornalisti a cui partecipano tutti i referenti della stampa e devo dire con ottimi risultati e grande soddisfazione anche da parte loro perché anche in questo noi vogliamo essere presenti vogliamo abbiamo un ufficio che è la la polizia postale che segue molto da vicino questo tipo di reati e quindi in quello c'è una particolare attenzione del ministero dell'interno e abbiamo rapporti continui già abbiamo detto nell'ultima riunione che abbiamo fatto che anche a livello territoriale di replicare quelli che sono gli incontri che noi facciamo a livello nazionale di replicarlo in alcune realtà dove maggiormente avvertito in modo tale abbiamo fatto poi di seguito la circolare ai prefetti proprio per sensibilizzarli su un tema di questo genere di questo di questo la sicurezza la sicurezza Grazie.